Questa è l'Italia Autopizza e pallone Questa è l'Italia Italia, Italia Questa è l'Italia Italia, Italia Italia, Italia Italia, Italia Italia, Italia Questa è l'Italia Italia, Italia Italia, Italia Italia, Italia Italia, Italia Italia, Italia, questa è l'Italia Richiesta per fuoco di artiglieria Roger, artiglieria a fuoco Le forze miliche hanno conquistato una zona Non siamo riusciti a prenderlo Le forze alleate hanno conquistato una zona Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS ATTENZIONE ALLA MAPPA! ATTENZIONE ALLA ZONA DESIGNATA! L'artigeria è pronta! Le parti dei buchi hanno scordato la zona! ATTENZIONE ALLA ZONA DESIGNATA DEL RETICOLATO! VINTA DEL RETICOLATO! Martiglieria, coordinate! Action! Forte! Attenzione alla mappa! Attenzione alla mappa! Attenzione al quadrato dedicato del reticolato! Arte! 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 Guardi! Arte! Arte! Grazie! 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 Se non agiamo in fretta, il nemico vincerà! I cannoni sono pronti! Grazie! 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 Grazie 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 Un telegramme si è stato inseroseso Iscriviti per otizzare la 역-���오 sera Un telegramme si èuto Nessere opinione si è stato inseroso Unitungo Abbiamo bisogno del supporto dell'artiglieria Recevuto, fuoco confermato. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Ancora un piccolo sforzo e la vittoria sarà nostra! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!